Ti rendo una cosa che mi dispiace, non ti sto dicendo non eterno, anzi adesso le verifico. Quello che ovviamente fa ogni figlio che non sa queste cose è dire che va tutto bene. Nel rapporto padre figlio adesso si ribaltano le cose, quindi sono io che devo chiedere a lui spiegazioni. Possiamo chiedere se ci fa sapere, comandate. Assolutamente, vi faccio sapere tanto tutti i ricordi, anche sui rimborsi che ti ho portato il mio conto corrente e tutto quanto. Come sempre la sua trasparenza e la sua disqualità l'attrezziamo. E' chiaro che un errore fatto da un papà non può richiedere sul figlio, però noi siamo qui a trattare questo argomento perché se scopriamo che l'azienda che oggi di proprietà del Ministro del Lavoro c'era un tempo qualcuno che lavora in nero, la cosa fa specie, no? Ma certo, assolutamente. Ci fa sapere allora l'esito di questa verifica con il suo papà. Cosa puoi sapere di preciso? E' vero che in passato l'azienda del suo papà ha tenuto il nero dei lavoratori. Allora, lunedì? Per te va bene lunedì? Ti sentiamo lunedì, a che ora? Dai, quanto sei? Ciao, a te. Vabbè, noi ci sentiamo con il Ministro Di Maio che ci dirà l'esito del suo colloquio con il papà. Vediamo che c'era.